Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Oggi siamo in un nuovo video con la prima cosa Oddio 2 video in uno Aspetta io mi metto qua sennò non mi vedono Oddio E oggi ragazzi che vorremmo fare Se non tantissimi video insieme Su Brewstars Io farò lo special Io inaugurerò questo mio canale Facendo lo speciale Secondo canale In con Brewstars E lei farà lo speciale 10 iscritti Ma già l'ho fatto io E lo rifai No oggi faremo video di Brewstars Più altri video di challenge insieme Francesco Preparati Comunque quindi rimanete No perdero perché Rimanete connessi al nostro canale Per tutta la giornata Perché da ora Fino a pomeriggio Fino alle 5 E faremo un video Cassa Mia Del mio account Cassa enorme Gratuita Sììììììììììì Grazie alla foot brawl E no Però devo vincere Ora sedio Prima Delle sedici Ciao Ciao!